Sono con l'artista Corrado Veneziano, che è pugliese di origine, ma poi è lucano e anche adesso vive a Roma, che per la prima volta visita questi ambienti che saranno restituiti ben presto alla collettività con una tra le varie opere esposte e anche delle sue creazioni. Sì, sono molto lusingato sia dell'invito da parte del FAI, ma questo è uno spazio che io conosco e ho frequentato ci giocavo a pallone, faccio la teatrica leggera ed è stato restaurato in maniera splendida, cioè non vedo l'ora che sia proprio restituito per intero ai baresi, alla popolazione pugliesi e all'Italia. Per il resto qui porto un'anteprima di una mia mostra su Dante, sono orgoglioso di dire che è l'unica mostra del Ministero della Cultura finanziata e patrocinata per i 700 anni della morte di Dante Alighieri. E' bello che un work in progress, cioè una mostra che ancora è in fieri, sia qui in un cantiere, penso che sia una coincidenza molto felice. Non solo Dante, dalle uniformi di truppa e degli ufficiali della Prima e Seconda Guerra Mondiale alle installazioni dell'artista Daniela Corbascio, realizzate con le condotte e i raccordi dell'impianto di climatizzazione. E' ancora l'alluminio quale materiale per tracciare i simboli del codice Morse, per intenderci quello del telegrafo, nella singolare opera di un'altra artista contemporanea, Jasmine Pignatelli. Esposizioni offerte in anteprima alle telecamere di Antenna Sud in occasione delle giornate del FAI. Prove tecniche di gallerie d'arte in un cantiere che si trasforma, quello dell'ex caserma Rossani. Un primo assaggio ottenuto attraverso il lavoro delle maestranze della Cooperativa All'Internazionale, che ha reso possibile visitare nelle giornate del 15 e 16 maggio gli spazi in via di completamento dell'ex caserma. Luogo chiuso e dimenticato per decenni, restituito prossimamente alla collettività, ma che in questo weekend diventa percorso guidato alla scoperta di quel che sarà. Parco da una parte, ma anche luogo d'arte e cultura, con le sue strutture destinate l'una a spazio multifunzionale, dove prenderanno corpo a mostre ed eventi culturali, e l'altra come la più grande biblioteca del Sud, con 40 sale studio a disposizione della cittadinanza.